Siamo riusciti, nonostante le difficoltà normative, organizzative e anche finanziarie, a garantire l'avvio dei centri estivi per la fascia 3-6 anni nella nostra città. Servizi che partiranno da lunedì 29 giugno e si concluderanno venerdì 31 luglio, quindi 5 settimane dalle 7.45 alle 14 con il pasto garantito all'interno del servizio. Ovviamente con modalità nuove, diverse, imposte dal DPCM del 17 maggio e da tutte le disposizioni in materia di sicurezza sanitaria. In primo luogo gruppi molto ridotti, 5 bambini con ogni operatore, proprio per garantire al massimo la sicurezza sia dei minori sia degli operatori. triage all'ingresso con termoscanner e tutta una serie di azioni di sanificazione all'inizio e alla fine della giornata per fare in modo che anche gli spazi, i giochi e tutti gli elementi che verranno utilizzati per l'attività educativa e ricreativa siano assolutamente sicuri. Ci sono delle novità anche per quanto riguarda la divisione, quindi la suddivisione dei ragazzi? Assolutamente sì, non più una sola struttura ma ben quattro. Avremo Galizzi, Trottola di Flaminio, Manfrini del Porto e Gaggia di Fano 2, rispettivamente con 30, 20, 15 e 15 posti. Quindi anche questo è un dato importante da sottolineare. Garantiamo la stessa capacità di accoglienza complessivamente degli anni scorsi e senza nessun aumento di tariffe, proprio perché in questo momento vogliamo dare un servizio ai bambini che devono recuperare dopo mesi di blocco delle attività educative comunque spazi per la loro socialità, ma anche sostenere da un punto di vista economico le famiglie che in questo momento stanno affrontando la crisi economica e sociale prodotta dal Covid. Com'è possibile avere maggiori informazioni o prenotare? Le iscrizioni partono dall'8 di giugno, si concluderanno il 16 di giugno. Si può telefonare tutti i giorni dal lunedì al venerdì all'887 608 887 611 oppure direttamente sul sito del Comune di Fano per l'iscrizione online, quindi www.comune.fano.pu.it